Siamo nel Duomo di Cerignola, nuovamente qui con il maestro Vinciotempera, ma siamo con il soprano Ripalta Bufo che questa sera canterà in questo fantastico concerto dove il maestro Vinciotempera dirigerà l'orchestra e sarà anche al piano. Definita dal maestro Voce di Cristallo, tra l'altro è anche una scoperta del maestro Tempera. Maestro, no sai io girando l'Italia quando sento qualcosa di interessante lo segnalo, lo guardo, me lo segno. Lo andò ad occhia subito. E lei mi ha stupito perché ha una bellissima voce pura, prende delle note devo dire pazzesche, mi sentirai stasera. E poi lei è la sua festa oggi. Sì perché lo diciamo, qui a Cerignola la Madonna di Ripalta, giusto? La Madonna di Ripalta è il patrono e lei si chiama proprio così, quindi ha un nome molto importante. Esatto, il mio nome è proprio, sono autoctona, sono di Cerignola e appunto ho il nome della Madonna che è la protettrice della mia città. Quindi insomma oggi si festeggia in grande. Il tuo onomastico, quindi le facciamo anche gli auguri in diretta e tanti auguri di buon onomastico. Le tue emozioni in questo momento sapendo appunto di cantare in questo duomo che è così importante per la tua città? Sicuramente è una grande emozione, considerata appunto la situazione, l'emergenza sanitaria e il riuscire a fare un concerto nella città, soprattutto nel duomo, nella cattedrale, è una grande vittoria, è una grande emozione. Poi io mi pregio, mi onoro di essere insomma accompagnata dal maestro. Un grande maestro. E' un grande privilegio, un grande onore. Posso farti una domanda così che esola un attimino da quella che è la serata che stiamo per vivere e stiamo per ascoltare. Tu o sei nella musica da sempre? Questo lo sei capito, sei bravissima. Una delle esperienze più belle che hai fatto, una delle esperienze che ti è rimasta nel cuore? Ho viaggiato tanto. Grazie alla musica, insomma, la musica ti permette di vivere delle emozioni anche al di fuori, no? Del proprio contesto. E una delle emozioni più belle che ho vissuto sicuramente è stata il Giappone, dove ho cantato nell'opera I Pagliacci. Poi, insomma, ultimamente ho cantato nella Carmen di Bizet e ci sono anche delle belle cose in progetto. Le più grandi emozioni sono quelle che ti portano in giro, ti fanno scoprire nuovi posti. Il bello è appunto che visiti dei nuovi posti con la musica e grazie alla musica. E grazie alla musica. Che cosa hai fatto, anzi, che cosa non hai fatto che vorresti fare? Una bella domanda, questo è il classico sogno nel cassetto, ma il cassetto è aperto. Esatto, solitamente sono un po' scaramantica, non dico per tutto, no? Un po' come tutti gli artisti. Sicuramente, magari non si dice il teatro, però uno dei sogni, soprattutto per un cantante lirico, è cantare nei grandi teatri. In un teatro. Sì, a italiani che esteri. E quindi ne facciamo quest'augurio, maestro, che questo sogno possa aderarsi. Maestro, lei dice, dopo tanti anni di meritata carriera, un sogno ce l'ha, chiuso nel cassetto, sempre col cassetto aperto, però. Un sogno. Un sogno. Un sogno. Un sogno, un sogno di notte. Fai passare la notte e tua mattina te lo dico. E io sono qui ad attendere il sogno del maestro Vincetempera. E in questo momento noi stiamo per entrare nel vivo della serata e stiamo per ascoltare queste meravigliose voci, le mani d'oro del maestro Tempera. C'era una volta, serata dedicata a Ennio Moricone, qui a Cerignola, nel Duomo. Grazie per Radiomia News e per Radiomia TV. Ripalta, bufo, il maestro Vincetempera, Cinzia Tattini. Grazie per essere stato. Arrivederci. Grazie per la visione.